No, eccoci qua, aspettiamo un po' che arrivi qualcuno, fatemi sapere se si vede, si sente bene? Bene, allora vedo già qualcuno. Benvenuti a tutti, questa sera una nuova puntata della rubrica Il mondo dei sogni, qui su Focus 3.0, il mistero della vita. Questa sera abbiamo un ospite eccezionale che è Eugenio Ferraro, è un sognatore, un sognatore che è nato sognatore e non ha mai smesso, quindi spontaneo, ha delle esperienze molto particolari e si è anche molto dedicato allo studio dei sogni. Tiene il suo diario onirico, annota tutto, osserva le sincronicità e ha letto, diciamo, molti libri un po' sulla fantasia, sul sogno, su esperienze altrui, eccetera. Ma ce lo spiegherà sicuramente lui questa sera, oltre a farci vedere che cosa noi possiamo fare nel sogno. Che non c'è uno standard nel sognare, perché come siamo tutti uno diverso dall'altro e tutti vediamo il mondo come lo vediamo noi, quindi in un modo unico, allo stesso modo tutti hanno il loro modo di sognare. E questa cosa è un fatto. Quindi questa sera ascolteremo Eugenio, potete fare tutte le domande che volete e noi cercheremo ovviamente di rispondere a tutte. Vi presento adesso Eugenio. Ciao Eugenio, grazie per essere qui. Ciao Daniela, grazie a voi e a tutte. Bene, allora io questa sera volevo far capire alle persone attraverso te l'importanza che hanno questi sogni. Quindi i tuoi racconti, le tue esperienze, fin dove sei riuscito ad arrivare, perché un limite lo sappiamo nei sogni non c'è mai, e quindi se vuoi iniziare insomma a spiegare come sei arrivato, dove sei arrivato, quando è che hai capito questa importanza dei sogni e da quali magari esperienze, letture o soprattutto comunque esperienze. Ti lascio la parola. Grazie Daniela. Beh, allora diciamo il mio interesse per i sogni nasce già, penso sia nato da sempre, diciamo così, perché come dicevi tu, come anticipavi tu, sognare, allora dare importanza ai propri sogni, ai miei sogni, e questo è sempre stato, diciamo così, un mio obiettivo fin da piccolo praticamente. Io mi svegliavo e subito mi ricordavo subito i miei sogni e non vedevo l'ora di raccontarli, insomma, mia madre, mio padre al tempo. Comunque loro ascoltavano con curiosità, ecco. Il maggior interesse per, diciamo così, lo studio dei miei sogni è nato dal 2017 in poi. Dal 2017 in poi ho deciso di tenere un diario onirico che aggiorno praticamente ogni giorno, quando riesco. Alle volte lo aggiorno anche qualche giorno più tardi, però qualche appunto lo scrivo sempre. Diciamo così che da lì mi sono interessato anche ad altri tipi di esperienze come il sogno lucido e successivamente anche il viaggio astrale. Perché mi sono interessato del sogno lucido e del viaggio astrale dopo il 2017? Annotando i miei sogni nel diario onirico con regolarità, oltre ovviamente a riportare tutta una serie di esperienze molto fantastiche, alle volte, anzi, spesso e volentieri ordinarie, perché di solito i sogni rappresentano molto quello che noi viviamo durante il giorno, no? Notavo che ero più consapevole, si può dire così forse, forse un po' più lucido. Alle volte avevo dei momenti dove come se mi svegliassi all'interno del sogno, praticamente mi accorgevo di sognare. Questo era dovuto più che altro all'interesse dato dal diario onirico, da tutta una serie di cose. E da lì praticamente ho approfondito e... E hai capito cosa fare. Esatto, esatto. E da lì sogno lucido, ho cercato di sviluppare la mia tecnica, ho letto molto, ho letto moltissimo. Raccontaci un po' anche delle... di alcune di queste esperienze che ti hanno fatto capire che qua, insomma, c'è qualcosa di diverso, cioè bisogna indagare. Beh, allora diciamo così che la prima volta con un sogno lucido è stato fantastico perché io mi sono svegliato, ero all'interno del mio luogo lavorativo, nel sogno, e mi sono svegliato, mi sono accorto di sognare e in quel momento la prima cosa che ho fatto, oltre a cercare di tenere un attimino l'emozione a freno perché l'emozione mi trasportava, in qualche modo mi faceva svegliare, inconsapevolmente ho toccato una parete, perché dallo spavento un po', dall'emozione, ecco, ho messo la mano e ho toccato la parete. E la cosa che mi ha più colpito era che la consistenza della parete era come se fosse la parete che tocco tutti i giorni, per dire, no? Le stesse sensazioni tattili, lo stesso tipo di calore, cioè era reale, era veramente reale, però era un sogno. Diciamo così che quello è stato anche una spinta, un po' la curiosità, a dire, però se io diventassi lucido più spesso, chissà cosa potrei fare. E così si è sviluppata, diciamo così, la mia pratica, ecco. Dicevo prima, Daniela, che ho letto un sacco di cose nei miei anni, da Michael Raduga a tanti altri autori che scrivono sui sogni lucidi, sui viaggi astrali, eccetera. E così ho sviluppato, tra virgolette, la mia tecnica. E che sarebbe? Cioè, raccontala nel contesto, insomma, del tentativo di, oh, quando programmi un sogno per diventare lucido, eccetera, eccetera, come metti in atto questa tua tecnica? Perché, aspetta, scusami, faccio una premessa. Eugenio ha fatto quello che ho fatto anch'io e quello che fanno molti sognatori. Come ho detto prima, essendo il sogno una cosa soggettiva, quindi come ognuno ha la propria scrittura, come ognuno ha la propria vita che non è uguale a quella degli altri, allo stesso modo anche nel sogno siamo tutti diversi. Quindi, dopo aver letto tante cose, io, per esempio, ho capito che si può fare nostro quello che va bene per noi. Quindi, se funziona, allora ce lo teniamo. Quindi, Eugenio ha messo insieme un po' di tutte le cose di cui è venuto a conoscenza, non solo che ha detto, mi sembra che tu hai avuto anche, hai conosciuto anche delle persone con queste esperienze, e hai messo insieme le tue tecniche. Ecco, questo è quello che dovremmo fare tutti, provare a fare tutti, una tecnica su misura per noi. Lo possiamo capire com'è solo provando tutte quelle che conosciamo e poi vedere se metterle insieme oppure, ecco. Ma, se posso Daniela, soprattutto l'introspezione. Quello che per me ha funzionato è stato prima di tutto capire il mio mondo interiore. Questo lo capivo attraverso il diario onirico. Cosa succedeva? Che c'erano delle volte dove non ricordavo i sogni, è normale. Tutti noi abbiamo una vita, tutti noi abbiamo dei ritmi, la vita spesso e volentieri è anche frenetica e quindi non sempre si ha, come si può dire, la lucidità e anche la forza di ricordarsi i sogni, eccetera, eccetera. Mi è capitato però, soprattutto quelle volte dove io non ricordavo i sogni, di fare, diciamo così, una specie di introspezione dentro di me e dire ma quella sera come mi sono addormentato, ero stanco sicuramente, ma avevo pensieri, ero carico di, non lo so, di qualche ansia, avevo qualche pensiero che mi tormentava, ho incominciato a fare questo tipo di lavoro qua su di me. Quando mi ricordavo molti più sogni, dicevo, ma io quella sera come ho dormito? Cercando di ricordarmi come sono andato a dormire, cos'era che in qualche modo mi faceva ricordare tutti questi sogni più delle volte. Diciamo così che le tecniche sono essenziali perché attraverso una tecnica noi in qualche modo riusciamo ad avere più sogni come a poter entrare in maniera lucida all'interno del sogno. Però se dovessi dividere in percentuale tutto ciò, direi che la tecnica può contare un 30 o 40%, il resto lo fa veramente la volontà, l'interesse e l'introspezione. Perché ognuno di noi dorme a modo suo, ognuno di noi, come si può dire, ha un modo di ricordare i sogni proprio e quindi se io devo dare, se io posso dare un consiglio è proprio quello di studiarsi, di studiarsi, di capire i propri metodi, di capire i propri sogni, perché tutto dopo si sviluppa a secondo di quello che è il nostro modo di dormire. La mia tecnica... Che si trasporta anche nella realtà poi, cioè è un continuo, è un continuo, non ci perdiamo niente. Assolutamente sì. Io, ad esempio, molti libri citano i test di realtà per essere lucidi nel sogno. Ora, volevo arrivare subito a quello, però proprio in questo momento devo dire questa cosa qua. Il test di realtà io fino a qualche anno fa l'ho sempre considerato una stupidaggine, una cosa che adesso rivaluto veramente, perché oltre a trasportare, diciamo così, il sogno, come dici tu, nella realtà, mi rendo conto che il test di realtà è un qualcosa che mi aiuta nella vita di tutti i giorni a essere consapevole in un dato momento. E questa consapevolezza in un dato momento, fatta più e più volte durante la giornata, aiuta a essere consapevoli di riflesso nel sogno. In qualche modo è un altro stratagemma che ho incluso nella mia pratica quotidiana, perché alla fine la tecnica non la sviluppi solo quando vai a dormire, ma la vivi tutto il giorno. Ecco, se proprio... Come dei giorni così fuori, come di giorno così di notte. Esatto, esattamente. E quella è la, tra virgolette, magia dei sogni, ecco. Perché siamo abituati ad andare a dormire e a spegnere il cervello, fare un reset e festa finita. Quando sogniamo, pensiamo che non continuano niente, i sogni che siano solo un prodotto della nostra mente e festa finita. Chiudiamo il discorso dei sogni e andiamo avanti nella nostra vita. In realtà i sogni dicono molto di noi, ma molto, e soprattutto se ascoltati, guardati, in qualche modo integrati nella vita di tutti i giorni, veramente si crea un continuo dalla vita di veglia alla vita di sonno, chiamiamola così, nel mondo onirico, che per me è straordinario. Abbiamo il doppio di informazioni disponibili sul percorso che stiamo facendo. Esatto. Allora, c'è qualcuno che chiede se puoi spiegare il test di realtà. Ma l'hai appena detto. Sì, test di realtà sono delle abitudini di controllare se siamo svegli o stiamo dormendo durante il giorno. Il cervello poi riporta la stessa abitudine anche nel sonno. Quindi possiamo capire che stiamo sognando e iniziare un sogno lucido. Esatto. A questo proposito, raccontaci le tue epiche avventure in sogno lucido o comunque in uno stato alterato di coscienza diverso dal sogno ordinario. Allora, se posso incominciare parlando in maniera visiva, quello che si percepisce è molto spesso come la realtà, se non addirittura una specie di realtà aumentata, perché le prime volte mi capitava di non credere fino in fondo di essere addormentato perché l'esperienza era talmente tanto reale che pensavo seriamente che no, c'è qualcosa che non va in me, che io penso di essere addormentato, in realtà sono sveglio. Perché ciò che tu tocchi, che tu vedi, che tu guardi, cioè è completamente come la realtà. Sì, è reale. È reale al 100%. Le prime volte appunto, dopo aver toccato il muro, facevo spesso degli esperimenti. Quando mi trovavo lucido in un sogno, andavo e toccavo proprio le cose per capire se avessero la stessa identica consistenza di quelle che nel mondo reale appunto, nel mondo della veglia, non reale, ho sbagliato termine. Da lì poi si passa a tante altre esperienze. Spesso e volentieri mi fermo, mi capita quando sono in un luogo naturale, mi piace osservare il cielo. E il cielo ha dei colori che sono indescrivibili. Cioè, è come osservare, ad esempio, mi è capitato di osservare, uscendo fuori da casa mia, da questo sogno. Ho detto, aspetta che guardo il mio cielo. E aveva dei colori dall'azzurro. Era un cielo misto, tempesta, e nell'azzurro si vedevano le stelle. Cioè, era uno spettacolo mozzafiato. Sono cose che, non lo so, magari per qualcuno non dicono niente. A me, viverle, viverle al cento per cento. Perché il sogno lucido non è un ricordo, come si può avere la mattina del sogno che si è fatto. È un'esperienza proprio reale. Come in questo momento io parlo con te, Daniela, se io fossi in un sogno lucido, starei parlando con te e starei vivendo le stesse identiche sensazioni che provo. Adesso, in questo momento. Sì, sia tattile che visile, eccetera. Sì, però è anche vero che c'è molto movimento in un sogno lucido. Cioè, ti devi spostare, devi continuare a fare cose, altrimenti si dissolve tutto. Infatti, io, i miei sogni, almeno nel tempo di veglia, non penso siano durati più di due o tre minuti. Però, diciamo così, che sono... In quel momento lì paiono infiniti, ecco. Si azienda il tempo. Sì, assolutamente sì. Non potrei neanche comparare con il tempo, diciamo così, di quello che si vive adesso. Un po' come quando stai bene con una persona, il tempo vola, no? Non te ne rendi conto. Invece, quando c'è qualcosa che non va, il tempo è talmente tanto che dici qua, cavolo, è lunghissima, no? Io penso che sia la stessa identica cosa. Ok. E va bene, il sogno più fantastico che tu hai mai fatto, più esilarante, più avventuroso, più divertente, ma ovviamente c'è anche sempre una parte istruttiva, anche nel sogno lucido o viaggio che sia. Quale potrebbe essere? Il più fantasioso che... Mi sono trovato in un bar stile americano degli anni 50 e che infatti mi sono meravigliato di come ho potuto creare una cosa del genere e mi ha aspettato questa persona, una persona che sapeva di me, mi voleva parlare, non vedeva l'ora di parlarmi. e in quel momento però io mi sono ricordato che non avevo un intento specifico, mi sono ritrovato lì, sono rimasto un attimo meravigliato da tutto quello che ho visto e cosa è successo? Che mi sono svegliato, mi sono svegliato nel mio corpo, nella vita di veglia, chiamiamola come vogliamo, però ho detto no, io adesso il mio intento è quello di continuare a parlare con quella persona, perché me ne sono andato. Tornando a riaddormentarmi, mi sono ritrovato nella stessa identica location, diciamo così, e quello mi ha più colpito. Poi non lo so, mi vengono in mente altre esperienze, diciamo che io non sono bravo nel volare, qualcuno magari è riuscito a volare subito, perché tutti provano, almeno quelle persone che ho conosciuto io, provano subito l'emozione del volare, io non ci riesco, cioè ancora ho veramente seri problemi di volo. Quando mi alzo in volo, incomincio ad avere delle sensazioni abbastanza, sì, perché è tutto reale al 100%, e quindi mi sento come se non riuscissi a controllare l'esperienza, e automaticamente mi sveglio. Quindi... Sì, succede anche ad altre persone questa cosa qui, sì. Poi, se vogliamo parlare di esperienze un po' più profonde, nello stato di sogno lucido, mi sono chiesto spesso e volentieri, ma noi abbiamo delle guide, c'è qualcuno che ci guarda. Allora, essendo che io conosco i miei limiti, so che se vedessi qualcosa di... non lo so, se vedessi ad esempio una mia guida, io come me la immagino, sarebbe un'emozione talmente tanto grande che mi sveglierei. Allora io ho fatto una cosa. Ho immerso le mie mani del mio corpo onirico all'interno di un muro, in questo caso era il muro di casa mia, sentendo tutte le sensazioni, come se stessi mettendo le mani dentro il polistirolo, e... ho fatto una preghiera mentalmente, dicendo, se c'è una guida in questo momento che mi guarda, mi osserva, so che non riuscirei a vederti, ma se puoi, toccami le mani. E in quel momento io ho sentito delle mani caldissime, un tocco così delicato, quasi angelico, che mi teneva le mani e me le accarezzava. E anche questo è stato come, non so, una piccola conferma che qualcuno... qualcuno c'è. Qualcuno c'è. e altre esperienze sono state... Esperienze fuori dal corpo, esperienze in cui ti senti proprio che... Diciamo l'esperienza fuori dal corpo, la prima volta che mi è capitato, sono riuscito a vedere il mio braccio, io ero proprio sul momento di staccarmi, e vedere questo braccio, pur sapendo che dormivo, mi ha in qualche modo ho creato una scarica di emozioni, che ho detto, oddio, sto veramente facendo questa cosa, e mi sono svegliato, questa è stata la prima esperienza. E quando ho imparato anche quello, è stato piano piano, imparare a interagire col... col mondo, col mondo, con questo corpo, che non è il mio... cioè, è il mio corpo, ma non è il mio corpo, quello che sono abituato a sentire. Fisico, esatto. ho dovuto fare come una scuola, cioè, io, se adesso ricordo le prime esperienze del 2017, mi viene in mente che... che avevo... mi sentivo abbastanza vulnerabile, no? come se dovessi rimparare qualcosa che non ho mai fatto, che comunque non ho mai imparato. Sì. Che c'è, che c'è, però, è come muovere i primi passi, non so come spiegare questa sensazione. è qualcosa che è successo anche a me, però, io rifiutavo queste esperienze che avevo, no? E quindi per me è stato più difficile. Ma mi sono ostinata tanto, finché ho capito che invece di cercare di andare contro, dovevo cercare di capire, di capire cosa centravano queste cose qua che vedevo di notte con me. E poi è iniziato poi. Quindi è difficile, perché non sai, non c'è una scuola, non c'è, almeno non c'era ai tempi miei, e quindi tu sei solo con questo tuo, fra virgolette, problema, la stessa situazione si era trovato, anche Robert Monroe e molti altri, non avevano confronti, e quindi devi fare tutto da solo. Esatto. Ed è un po' come una rinascita alla fine, quando riesci a trovare l'equilibrio che c'è, perfetto, fra notte e giorno, e che la nostra vita, cioè il corpo dorme perché ne ha bisogno, ma noi non dormiamo mai, e quindi di notte noi continuiamo a viaggiare e fare. Quando si è scoperto questo, è impagabile, diciamo, è impagabile. Esattamente, c'è infatti qui una persona che scrive, perché non leggo i nomi, se ci si sveglia da un sonno e poi riaddormentandosi, si continua dove si è interrotto, come è possibile? Ecco, c'è gente che queste cose non le sa, ma comunque sì, sono possibili perché sono ordini che noi diamo a noi stessi, un po' come dire, io alle sei mi devo alzare, se io me lo ripeto, me lo ripeto, riesco anche senza svegliarmi alle sei, quindi sono cose abbastanza umane, quelle di tornare a letto, pensando a cosa stavo sognando, e quindi poi riesco a ripescare il sogno. Esatto, esatto. Spesso e volentieri mi è capitato, non con i sogni lucidi, ma con i sogni ordinari, di svegliarmi, scrivere il sogno, a un certo punto di voler dare io una continuazione a quel sogno, quindi mi riaddormento con quella di, adesso vorrei che il sogno continuasse in quella maniera lì. Spesso e volentieri, per una persona che magari tiene un diario onirico, che in qualche modo è allenata a riconoscere i propri, chiamiamoli stimoli onirici, eccetera, riesce abbastanza volentieri. Ho sentito più di una persona a furia di provare, documentarmi, eccetera, che riusciva in questa cosa, ecco. Un po' come appunto dici tu, Daniela, ci dobbiamo svegliare a una certa ora, e automaticamente ti svegli due minuti prima della sveglia. Ma secondo me, come hai detto tu prima invece all'inizio, è tutta una questione di sapere che funziona così. Se io so che funziona così, otterrò il mio risultato. Punto. Si chiama volontà, si chiama intento, e quindi io so che questa cosa si può fare, quindi la faccio perché è quello che mi serve. Basta. Come diceva Vadim Zeland, come andare all'edicola a prendere il giornale. Esatto. E cosa fatta. Sì, sì. Va bene. Allora, raccontaci qualche altra tua esperienza, proprio qualche sogno in cui ti sei divertito, in cui, o che ricordi volentieri, da piccolo, da grande, da ieri. Allora, diciamo che un sogno che mi ha colpito, da quando ho registrato tutti i sogni, ne ho fatti solamente due, e tra la vita sarebbero vite parallele, no? Sì. Ho visto che l'hai citato anche tu nel gruppo di Universo Sogni, e effettivamente, allora, se posso raccontarlo, se... Certo, devi. Praticamente, mi ritrovo in questa festa, c'era una festa organizzata all'aperto, io ricordavo questi caravan, tutti messi a mo' di cerchio, e queste luci, era una festa che, in quel momento lì, io non sapevo che cosa ci facessi lì, è iniziato tutto molto lentamente, io mi sono trovato in questa festa, e piano piano, piano piano, affiorano i ricordi, come se a livello energetico, arrivassero piano piano le informazioni del corpo che io abitavo in quel momento, era il corpo di un ragazzo, senza barba, completamente diverso da quello che sono io, però, in quel momento, percepivo che ero io, ero proprio io, un altro io, solo che, non sapevo cosa stavo facendo lì, finché, a un certo punto, sento questa sensazione di tristezza, ero triste, ero molto triste, nonostante io vedessi tutte le persone che si stavano divertendo, io ero tristissimo, e faccio per allontanarmi da questa festa, e me ne vado, c'era un bosco, era organizzata proprio in mezzo a una radura, e intorno a questa radura c'era questo bosco, me ne vado tra i rami, tra i rami, gli alberi, i cespugli, proprio me ne, mi volevo isolare completamente, mi siedo su, su un tronco d'albero caduto, e in quel momento arrivano altre informazioni, che sono a una festa di matrimonio, sono a una festa di matrimonio, e non è il mio, io sono lì seduto, e sono un invitato, una ragazza, io la vedo da lontano, mi ricordo che la vedevo camminare, era bionda, con questo vestito particolare, aveva questi jeans a vita alta, e questa camicia bianca, ricamato, non mi ricordo che motivo, era ricamato di rosso, si avvicina, e in quel momento, come si siede vicino a me, arrivano altre informazioni, capisco che, io sono invitato al suo matrimonio, al matrimonio di questa ragazza, io sono innamorato di questa ragazza, ma questa ragazza ha un matrimonio combinato, con il mio fratello, che è lì, che è lì, io mi vivo, praticamente tutte queste emozioni, la rabbia, e il desiderio di voler essere corrisposto da questa ragazza, e questa ragazza è sempre stata una mia carissima amica, più amica rispetto a mio fratello, ma in quel momento capisco che, arrivando a altre informazioni, tutto molto piano, 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 capisco anche che è un matrimonio combinato, io non ci posso fare niente, perché funziona così, funziona così, a un certo punto, vuoi per l'alcol, vuoi per qualcosa, mi sfogo con lei, gli dico che io sono sempre stato innamorato di lei, che lei poteva dire di no, che lei poteva fare qualcosa, a un certo punto questa ragazza mi bacia, capisco che anche lei è sempre stata innamorata di me, ma anche lei si è trovata in quelle condizioni, tra le famiglie, di dover in qualche modo adempire a questi doveri, in questo bacio avviene qualcosa di, posso dire, trascendente, perché oltre a provare un misto di emozioni molto forti, è come se mi si fosse aperto qualcosa qua nel cuore, si fosse proprio aperto nel sogno, si fosse aperto, e in quel momento, io è come se fossi stato cosciente e consapevole di chi ero, di chi sarò, e soprattutto di come andranno le cose, e quando guardo lei, vedo mia moglie di oggi, e quindi in quel momento il messaggio è molto, così molto terra a terra, è che l'amore trascende veramente il tempo e lo spazio, quello che ho provato in quel momento è stato come aver vissuto questa vita, aver vissuto, cioè aver vissuto quel pezzettino di quella vita lì, di quella linea temporale, e allo stesso tempo di essere sempre collegato con quella persona che è lì, che è la stessa persona che è qui, e che io sono quella persona che è là, e che sono lo stesso, la stessa persona qua, è molto difficile da spiegare, perché è stato un turbine di emozioni, di amore, però quello che ho intuito quando mi sono svegliato, che poi sono quei sogni che ti svegli carico, e ti svegli, non lo so, a mille, l'amore, proprio mi è rimasto il messaggio in testa, l'amore trascende il tempo e lo spazio, e questo io l'ho proprio scritto, nel mio diario unirico, vita parallela, perché per me è come aver vissuto un pezzettino di un'altra vita, che ero io. L'impressione che dà a me, a un certo punto non trovavo una risposta, perché c'erano delle incongruenze sul materiale che avevo, allora ho pensato, ma caspita, io queste cose le ho vissute, cioè io ero lì, ero lì stanotte, quindi il tempo è presente, e quindi io vivo queste cose, se poi ci accorgiamo anche che hanno a che fare con quello che stiamo facendo adesso, capiamo che abbiamo una mole di informazioni in più su tutte le possibilità, su tutte le cose che probabilmente stiamo anche facendo in più dimensioni, e ci rendiamo conto anche che la nostra vita è molto più movimentata di quello che pensiamo. E quando ci sono questi messaggi così, diciamo, evidenti, non serve neanche più trovare una collocazione come le persone che, cioè come la religione che dice c'è la reincarnazione, io credo che molte di queste cose ci siano state tramandate così, perché era la modalità più semplice di spiegare una cosa, non si può spiegare qualcosa che è senza tempo e senza spazio a un essere umano, però le possiamo sperimentare, sì, le possiamo sperimentare. Sì. Sono esperienze che personalmente, non so, mi lasciano un segno, cioè io sento che ogni volta che ho questo tipo di esperienze qua, cresco, 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 e quindi perché lasciare tutto nell'inconsapevolezza? se io non fossi stato un minimo consapevole non avrei vissuto questa esperienza e quindi spesso volentieri ci svegliamo arrabbiati e non sappiamo perché, ci svegliamo felici e non sappiamo perché, ma come dici tu si vivono, perché si vivono delle esperienze che se noi fossimo un minimo consapevoli appunto renderesti conto che la vita prosegue, prosegue anche mentre noi dormiamo e va avanti e chissà dove va non abbiamo le risposte però un po' impariamo a conoscerci perché nei sogni siamo pur sempre noi che pensiamo che facciamo eccetera quindi possiamo analizzarci molto meglio da un punto di vista che noi non vediamo di giorno quindi sono tanti gli aspetti che possiamo vedere di noi stessi in sogno e quindi aggiungere informazione a un lavoro di autoconoscenza ecco sì c'è un utente qua a facebook che scrive anime gemelle come nel libro di Brian Weiss molte vite un solo amore sì mi è successo altre volte di parlare con persone che hanno ricordato una relazione che era con la persona con cui hanno una relazione adesso quindi sì sono tante ci sono anche molti film a questo proposito che spiegano come funzionano o come è possibile sono possibili le vite precedenti però chiamando le vite precedenti non importa alla fine come vogliamo chiamarle e come dice anche Raduga lui la chiama la fase io la chiamo la porta del sogno quando attraversiamo la porta del sogno sono tutto è possibile non ha limiti il sogno come invece nella veglia siamo limitati dai nostri cinque senti nel sogno tutto si stravolge tutto può diventare tutto quindi sì infatti se posso se posso interromperti Daniela una cosa che ho dovuto imparare è proprio non portarmi il mondo della veglia all'interno del sogno nel senso che spesso e volentieri ad esempio con le esperienze astrali mi ci è voluto un po' per capire che io potevo anche attraversare una porta perché in realtà il mio corpo astrale è un sì non è il corpo fisico non ha massa è una massa le prime volte le prime volte per condizionamento io avevo diciamo così timore ho detto cavolo forse sicuramente prendo una botta in testa e la botta in testa la prendevo su serio tentando di attraversare una porta perché perché alla fine sono dei condizionamenti che abbiamo noi se tu credi che non riesci ad attraversare quella porta non riuscirai ad attraversare la porta e spesso volentieri le ho dovute aprire per poter andare avanti sì c'è stato quasi del magico nel imparare un'altra volta a muoversi in un altro tipo di ambiente ecco che poi è un ambiente molto intimo cioè ci andiamo tutte le sere ogni volta che chiudiamo gli occhi solo che andarci in maniera consapevole è già diverso ecco anche più più completo come una signora scriveva oggi diceva io ho fatto un sogno seppure non era un sogno bello però io mi sono svegliata come se fossi più completa come se cavolo io ho visto cosa faccio anche di notte quindi io non dormo mai si può dire sono consapevole anche di quello che faccio di notte quelli sono traguardi per chi cerca più informazioni su se stesso cerca di comprendere se stesso ma volevo chiederti Eugenio con queste esperienze astrali raccontaci un aneddoto una di queste esperienze che hai avuto allora succede che faccio la tecnica esco esco dal mio corpo all'inizio non vedo niente ci sono altri metodi come diceva appunto Raduga per stabilizzare tra virgolette la fase il mondo onirico eccetera 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 stabilizzo e decido per la prima volta dico boh provo a vedere dove aprendo una porta e pensando che dall'altra parte c'è qualcosa che mi aspetta voglio vedere cosa mi aspetta non ho espresso per la prima volta un intento chiaro preciso voglio andare lì oppure voglio andare là no portami dove c'è qualcosa per me io ho aperto la porta e mi sono trovato praticamente non lo so perché tuttora ancora ancora studio quel sogno in un vecchio hangar militare appartenente alla guerra fredda dismesso dove c'erano questi esploratori quelli che vanno a esplorare queste fanno gli urbex si chiamano esplorano un po' tutte quelle strutture abbandonate per divertimento per passione e girando per questa struttura trovo un uomo un uomo lo vedevo sempre da lontano un uomo con un cappuccio molto sinistro molto tetro che che mi faceva cenno di seguirlo io lo seguivo lo seguivo ma ogni volta mi faceva perdere non lo trovavo poi perdevo un po' la vista e dovevo un'altra volta ristabilire il tutto alla fine quell'uomo quando l'ho trovato e si è abbassato il cappuccio ho visto che era identico a me ho visto me stesso lì quando l'ho visto io l'ho guardato io ho sorriso lui ha sorriso e mi sono svegliato e lì sì e lì ho detto forse sarà stata una parte di me essendo che non ho espresso un intento specifico che mi ha voluto giocare uno scherzo che cosa hai provato quando stupore stupore però mi è come dicevo prima mi è scappato un sorriso non lo so come uno scherzo uno scherzo no un'altra esperienza astrale io spesso e volentieri ho provato ad esempio a trasformare il mio corpo astrale in qualche animale mi sono divertito per un po' di tempo a fare questo genere di pratica e nonostante io volessi trasformarmi cose tipo lupi tipo così mi trasformavo sempre in un gatto in effetti scusate anche per i gatti che sono un attimino che girano sono sempre ben accetti i gatti mi trasformavo sempre in un gatto tra l'altro un gatto bianco con una macchia arancione sulla schiena non ho mai capito perché e nonostante io mi sforzassi di trasformarmi in qualcos'altro finivo sempre per diventare un gatto con tutte le sensazioni che può avere un gatto presumo io avevo una vista molto più chiara e le vibrisse mi davano un fastidio allucinante e tutti i movimenti erano non più da bipede ma da quadrupede quindi io mi muovevo proprio come un quadrupede sentendo la muscolatura sentendo le le zampe sul terreno provavo quelle sensazioni lì al cento per cento come se fossi come se fossi sveglio ma fossi un gatto in questo momento e l'unica volta che ho provato a volare perché come vi ho detto prima io ho un sacco di problemi col volo è stato trasformarmi in un falco quello è avvenuto quasi quasi di colpo io ho fatto così con le mani perché volevo volare e mi sono ritrovato che era un falco non non volendo trasformarmi ecco però ecco la sensazione del volo l'unica volta in tutti i miei anni di aria onirico è stata proprio volare come un falco e me la ricordo tuttora perché è stato bellissimo sentire l'aria tra le piume io mi ero focalizzato su quello l'aria tra le piume essere leggeri sentirsi trasportare dalla corrente poi sbattere le ali e avere una una sensazione di non lo so di potenza di forza di spinta energetica sì esatto quelli sono stati diciamo così delle bellissime esperienze ecco così adesso ricordarmi a parte i gatti non ho avuto altre trasformazioni è bello perché nel sogno tu puoi veramente fare l'esperienza di essere qualcosa che non sei a me è successo una volta che ero un uomo più o meno negli anni venti o negli anni adesso non lo so forse erano gli anni sessanta io ero innamorato di una ragazza e allora io la guardavo però avevo paura un po' come fanno i gattini quando toccano un animale delicato vai vicino ma non lo toccano veramente perché sembra fragile e quindi io ero in cantà ho capito cosa prova un uomo davanti a una donna non ha niente a che fare con quello che prova una donna e quindi io so adesso che cosa prova un uomo innamorato davanti a una donna come per esempio so come si pilota un aereo perché l'ho fatto in sogno quindi sono cose che siccome le facciamo veramente io mi ricordo come si fa quindi so dove è il gancetto non lo so del paracadute e altre cose e queste sono esperienze che si fanno in sogno non dico che magari ci debbano servire nella realtà ma rimangono esperienze e creano memoria quindi noi abbiamo un bagaglio di informazioni consapevoli molto più grande invece senza queste esperienze senza il ricordo di una vita onirica noi abbiamo solo la consapevolezza della memoria che abbiamo qui non abbiamo la consapevolezza della memoria del sogno se invece i sogni ce li ricordiamo sì e quindi possiamo osservare sincronicità déjà vu eccetera possiamo iniziare a collegare questo grande mistero che è il mondo con quello che abbiamo imparato esatto poi poi Daniela avendo anche queste esperienze ovviamente uno si sveglia che è contento al 100% quindi ti vivi una giornata non lo so è come adesso un esempio proprio stupio come se fossi stato a Gardaland ti passi la tua giornata lavorativa tutti i tuoi impegni con un'altra carica perché in quel momento è come aver dato uno sguardo in un mondo veramente fantastico magico e anche delle volte si esce di casa la mattina dopo un sogno così dove il mondo sembra una sciocchezza quindi tu dici ma quali problemi mi devo farli cioè non so se abbiamo notato cosa abbiamo fatto sì quindi è un po' vivendo due mondi si possono rivalutare entrambi guardare la realtà con occhi diversi guardare anche il sogno con occhi diversi quindi è sempre evoluzione è sempre introspezione perché è un lavoro che da che mondo è mondo si fa da soli a parte qualche gruppo onirico o raccontando i sogni a qualcuno tu sei fortunato che potevi raccontarli ai tuoi perché a me diciamo è un sogno torna a dormire quindi sì è una bella cosa che tu lo faccia anche con con i tuoi figli sì 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 loro si svegliano soprattutto il piccolo ogni tanto dice sai papà oggi ho sognato questo 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 io lo ascolto perché giorni fa mi ha detto ma papà come si fa a volere non rompere un vaso nel sogno io gli ho detto ma perché perché io mi ha spiegato con le sue parole che lui vede questo vaso ogni volta nei sogni rompersi e lui non vuole che si rompa e io gli ho detto semplicemente guarda togli lo sguardo da lì guarda da un'altra parte pensa che il vaso è a posto e poi torna a guardare lui qualche giorno dopo si è svegliato io gli ho chiesto ma allora ha funzionato sì sì ha funzionato funzionato poi sai la fantasia soprattutto quella dei bambini è un grande motore per questo genere di esperienza poi loro secondo me hanno anche molta più facilità di noi adulti di entrare in maniera anche consapevole all'interno di questi mondi ecco diciamo che secondo me il modo consapevole è l'unico che hanno perché finché non entrano in società attraverso non lo so la scuola gli insegnanti e quelle cose lì ma chi anche dopo loro sono molto semplici quello che vedono è realtà quindi io non ho mai conosciuto nessuno che mi ha detto mio figlio mi ha detto ho fatto mamma ho fatto un sogno lucido un figlio ti dice ho fatto un sogno poi tu ti accorgi che è lucido però loro per loro i sogni sono così sono anche utili a farsi farseli raccontare perché si può anche capire lo stato d'animo del bambino quando è piccolo emergono magari le sue paure possiamo capire facendoci raccontare i sogni anche come sta questo sicuramente come lo è per noi ecco esatto bene Eugenio allora se vuoi aspetta che guardo da qua se ci sono altri commenti vuoi raccontare un'altra delle tue esperienze insomma di sogno lucido qualcosa di strabiliante come sono i sogni lucidi quelli iper vividi diciamo che in un in un altro sogno lucido mi sono trovato in questo parco dove c'erano delle case delle case io penso che erano molto stile anni venti anni trenta una città che poteva essere a me ricordava una della vecchia Europa diciamo così e c'era questa persona che in qualche modo con la mente riusciva a accendere dei fuochi accendeva dei fuochi intorno a me accendeva dei fuochi vicino a lui e io mi meravigliavo gli dicevo ma com'è che fai e lui mi ha guardato e senza entrare nelle religioni eccetera io sono io sono cristiano per me quindi nella mia mente ho tutta una certa impostazione ecco ma lui mi ha detto mi guarda e mi fa io accendo tutti questi fuochi perché Dio è la luce nel mondo e in quel momento lui si è fatto vedere che si è inginocchiato si è messo come in meditazione e in quel momento mi ha fatto capire che mettendosi in meditazione arrivava questo fascio di luce che lo che lo copriva praticamente e lui in quel momento era in contatto con qualcuno più in alto che gli dava delle direttive io presumo qualche angelo o Dio stesso non lo so però quando è sceso questo fascio di luce si è come non lo so mi viene in mente la trascendenza è come è trasceso tutto il mondo onirico e io ho visto questo luogo bellissimo cioè è indescrivibile con le parole perché era un luogo di luce di luce e sono rimasto così a guardarlo per due secondi per due secondi e lì poi mi sono svegliato ho ripreso proprio ho aperto gli occhi come se ci fosse stata una continuità dalla sveglia dal sonno alla veglia e mi è rimasta questa immagine che ho provato a disegnarla ma è impossibile di questo luogo io io lo faccio delle volte ma anche se non sono capace ma almeno ci provo insomma diciamo che li faccio solo per i sogni i disegni sì bene allora ho queste esperienze nei sogni lucidi spesso e volentieri giro per il luogo dove sono quei due tre minuti provo come dicevo prima a trasformarmi o osservo una cosa buffa mi è capitato che mi sono trovato in questo luogo e dico decido di provare a volare una delle tante volte che ho provato a volare apro la finestra ero al primo piano sto per lanciarmi che anche lì ci ha voluto un po' prima di farlo perché le sensazioni sono quelle proprio fisiche tu vedi il tuo piede che si appoggia sul davanzale tu spalanchi questa finestra insomma ti devi lanciare se vuoi volare sto per farlo quando arriva questo ragazzo tutto riccio con i capelli biondi mi fa no io mi giro io mi giro perché no non puoi mi ha detto cioè strillando tutto preoccupato io mi lancio ovviamente non riesco a volare ma quello che mi può succedere è solo cadere rotolarmi per terra io lo guardo mentre sono disteso per terra lui mi sta ancora osservando dalla finestra molto contrariato di quello che ho fatto e io gli ho detto ecco te l'avevo detto che riuscivo adesso l'ho preso e sono andato a esplorare un po' il posto però era buffo diciamo così il modo in cui anche l'inconscio in qualche modo dice hai dei limiti fermati un attimo ma credo che siano limiti che impostati da noi impostati da me lo so ce la farò sì sì ma mi era venuto in mente per associazione una cosa ma non mi ricordo comunque sì sono limiti che ci mettiamo noi sono quando noi abbiamo deciso un po' come sempre quella la persona che pensa che mettendo sotto il cuscino l'aglio si ricorda i sogni ma se funziona e continuerà a funzionare e ci sono allora qua delle domande su per esempio c'è una persona che scrive le esperienze fuori dal corpo sono meravigliose assistere ai propri interventi chirurgici poi è indimenticabile sì succede che la paura delle volte ci fa uscire dal corpo io mi ricordo una storia di un soldato che ovviamente era in guerra era in guerra quindi a un certo punto lui scoppia una bomba il soldato prende fuoco e comincia a correre nella neve a un certo punto si sdoppia perché è una questione di panico di sopravvivenza quindi devi vedere la cosa da più angolazione se ti guardi stai prendendo fuoco allora il corpo astrale cerca di urlare alla persona che corre che sono la stessa rotola rotola gli dice insomma in questo tutto durato qualche secondo il corpo si è sdoppiato e è riuscito a far capire al soldato che si doveva rotolare perché altrimenti non li va bruciato quindi sono delle volte anche nel sogno quando noi abbiamo paura di vedere qualcosa ops la vediamo da fuori l'immagine come per protezione quindi sì ci sono dei casi io ne ho letti tantissimi sui sogni allora poi abbiamo il commento che ti avevo letto e una persona scrive a seguito di un lutto è anche possibile che mutino i sogni e che diventino più significativi è vero secondo me perché nel momento di un lutto c'è un cambiamento c'è un cambiamento quindi cambia tutta la persona e quando c'è un lutto c'è anche molto spesso un'introspezione iniziamo a farci delle domande a pensare alla spiritualità quindi anche i lutti portano sì anche altre esperienze per esempio anche portano le visite dei defunti precedenti o addirittura del defunto di cui abbiamo subito il lutto in questo senso tu Eugenio lavori anche nell'ambito insomma della cura e tu hai avuto contatti con altre persone viventi o defunte che conosci e che ti sono venute in sogno mi è capitato una volta di un ospite della mia struttura che era mancata già da un bel po' di tempo e io mi sono ritrovato lucido all'interno della struttura e l'ho rivista in quel letto che mi chiedeva veramente aiuto cioè mi diceva aiuta mi aiuta perché io non so perché non viene nessuno ad aiutarmi io ho inteso come in quel momento magari non lo so poi io sono diventato sono ritornato un'altra volta nel corpo perché questa cosa mi ha fatto un po' mi ha lasciato un po' non sapeva di essere morta è quello che ho pensato ho intuito ma risposte concrete non mi sento di dare su questo evento qua però sì mi chiedeva aiuto perché non capiva perché nessuno veniva a vedere di lei insomma lei è nel letto da un bel po' di tempo io chiamo perché nessuno viene ed era mancata da un bel po' di tempo ecco sì mi ricorda anche un episodio di Monroe che scrive nel suo libro dove c'è questa donna che abita ancora a casa sua ma è morta da chissà quanti anni e quando vede Monroe perché queste persone ancora attaccate alla terra e che non riescono a capire che sono in un altro stato di coscienza riescono a vedere soltanto tra virgolette i vivi e quindi quelli che escono in astrale quelli che che vedono con il corpo astrale con quelle persone riescono a comunicare e quindi lei vede Monroe e gli dice cosa fai qui sei venuto anche tu a portarmi via qualcosa dalla casa mi hanno portato via le sedie i quadri e tutto cosa vuoi portare via c'era proprio arrabbiata come dire qua non mi vede nessuno mi rubano le cose sono molte secondo me le persone smarrite che sono quello che poi noi chiamiamo fantasmi invece questa persona era proprio sconvolta perché non capiva il perché nessuno arrivasse lei chiamava con il campanello e nessuno veniva ad aiutarla ecco lei chiama 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 e non arriva nessuno un'altra esperienza più bella invece è stata con mia nonna lei è mancata già da un bel po' di tempo e tra parentesi l'ho sognata pochissime volte dei sogni tra virgolette normali ma in maniera lucida è arrivata in un periodo un po' difficile un po' complicato difficile della mia vita senza neanche aver chiamato che io mi ricordo solo che ero seduto su questa panchina e io sono diventato consapevole quando il dialogo era già finito io mi sono accorto che stavo parlando con lei ma avevamo già finito di parlare e c'era una luce una luce che non riuscivo neanche a guardarla era una luce che veniva dal luogo io avevo gli occhi semi chiusi da tanta luce c'era e io gli dico boh dai nonna che con papà dopo veniamo a prendere un caffè lì di te lei mi dice con la voce un po' da da prendermi in giro mi dice sì 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 dai va bene vi aspetto vi aspetto va bene e il sogno poi continua che io mi recco da lei ed ero un'altra volta lucido ho perso consapevolezza per poi ritornare un'altra volta lucido sono nella sua casa sono con mio padre ma io dico essendo che quando uno è lucido in un sogno ha tutti i ricordi della vita di veglia e dice ma io è inutile che cerco qua perché mia nonna è mancata in quel momento però avendo che essendo che ero diventato lucido tardi il dialogo era già mezzo finito e per me era ancora viva ed ero in un luogo dove c'era tantissima luce che tra l'altro non riuscivo neanche a guardarla e in quel momento io mi accorgo quando sono a casa sua con mio papà che sì ma lei non può lei mi ha detto ci aspetta ma non può aspettarci perché non c'è e in quel momento io l'ho interpretata un po' come una visita ecco una visita in un momento un po' un po' particolare ecco sì sì c'è una eh persona che scrive la persona ti chiedeva aiuto per andare oltre il velo questo è vero eh a volte basta eh dirle di sentirsi libera di andare nella luce ehm rassicurare il suo percorso ah è Antonella sì perché non leggo i nomi sì è vero funziona questa cosa poi mh nella letteratura ci sono dei casi ostici dove le persone magari non si fidano di te non vogliono ce n'è un po' di ogni come qua come qua da noi ognuno è fatto a modo suo però sì ci sono spesso delle persone che sono smarrite perché non sanno più che stato di coscienza vestono oppure non vogliono credere e vogliono rimanere attaccati alla terra continuano a cercare le persone ma per centinaia di anni anche questo un'altra utente scrive vanno rassicurati guidati convinti che devono cominciare il loro nuovo percorso verso la luce devono evolvere capita anche le prime volte che si creano contatti di transcomunicazione strumentale sì di esperienze ce ne sono tantissime è successo anche a una mia amica che ha perso il marito il marito ha continuato a girare per casa e una volta ha fatto anche cadere un lampadario ma il lampadario era avvitato con delle viti grosse dentro il muro quindi ecco ci sono queste queste esperienze che le persone hanno non si può negare che insomma noi non siamo solo i nostri cinque sensi e quindi il sogno ce lo dimostra il sogno secondo me è anche un allenamento perché se io sono un sognatore quando mi trovo come quella signora poverina nel letto e non arriva nessuno mi faccio delle domande faccio un test di realtà provo a pensare adesso voglio che arrivi qui mia nonna ok vedo mia nonna ok ho capito sono da un'altra parte quindi sì anche i tibetani lo facevano studiavano lo yoga del sogno e del sogno proprio per abituarsi ad andare di qua e di là del mardo quindi senza il corpo ma consapevoli quindi in un viaggio astrale con esperienze di trascendenza come dici tu Eugenio tutto è aumentato come in un sogno lucido tutto è iper realistico e vediamo anche tutti i peli e contiamo i peli dei baffi del gatto o vediamo la luce nei suoi occhi quante ciglia ci sono è tutto molto cioè possiamo scegliere di vedere con un focus grande o con uno piccolo possiamo scegliere che cosa fare cosa vedere tutto si materializza quindi cambia anche l'idea che noi abbiamo del nostro potere di quello che possiamo fare di cosa siamo insomma di cosa siamo ecco perché anche parlando di spiritualità o le persone che sono credenti insomma non c'è solo la carne c'è anche lo spirito e nello spirito ci sono diverse manifestazioni insomma ce ne sono abbastanza per fortuna la gente oggi ha allargato la mente ha aperto a un'apertura mentale migliore quindi accetta cose che se ci penso io vent'anni fa a fare un discorso così non era tanto ben visto Daniela se posso dirti non solo vent'anni fa anche dici sì 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 è vero per fortuna la situazione ha dato la spinta alle persone a cercare anche qualcos'altro perché ho visto un notevole cambiamento sull'interesse all'introspezione che c'è ultimamente proprio in questi ultimi anni sì allora leggo qua credo che sia un trauma sì che sia un trauma anche per loro che cambiano direzione tanto quanto chi rimane sulla terra e i familiari sì credo che sono siano due persone due percorsi diversi uno per chi rimane e uno per chi parte sono sempre due cambiamenti e quindi due vite che cambiano inevitabilmente a seconda della relazione che c'era con queste persone si aprono le domande e come è ai funerali che di solito i figli dei genitori appena trapassati si fanno la domanda di adesso dove andrà e poi toccherà a me e dove vado e dove cioè domande semplici innocenti ma alla fine riguardano qualcosa che noi conosciamo già perché lo stesso cambiamento che c'è fra il giorno e la notte quando noi sogniamo entriamo nel sogno e possiamo fare determinate esperienze credo che sia la stessa cosa che poi noi potremmo fare di là quando attraversiamo la porta della morte e quindi non c'è tanta differenza quindi prendere confidenza con questo mondo più nascosto ci aiuta per il momento in cui noi dovremmo vivere in un luogo del genere e quindi questo me lo tengo sempre in mente voglio essere preparata come si dice nello sciamanesimo danzare davanti alla morte prima di morire ah sì sì fare il mio valletto va bene allora vuoi aggiungere qualcosa Eugenio beh voglio solo dare un consiglio alle persone che ascoltano proprio non da persona che sa perché nessuno sa e siamo veramente tutti qui solamente per imparare 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 fare esperienza imparare fare esperienza imparare però guardatevi dentro se volete provare anche voi magari non riuscite o vi scoraggiate per le prime volte è tutto normale è tutto normale l'importante è mantenere solamente l'intento l'intento e la costanza le tecniche vengono dopo quando vi siete abituati al mondo onirico eccetera eccetera io per me dal 2017 in poi da quando ho incominciato questo percorso che non ho mai smesso non ho mai mollato la mia vita è cambiata lo dico senza senza paura e senza sembrare un megalomane non lo so neanch'io è una marcia in più è una marcia in più è una marcia in più io mi sento sempre la la solita persona che sono tutti i giorni probabilmente poche persone con cui parlo sanno dei miei interessi ma per il resto io rimango sempre sempre l'Eugenio che no di più perché ti conosci sempre di più ecco ecco è solamente che quello che mi piace pensare è che non mi fermo quando quando mi addormento anzi si comincia un'altra un'altra parte di vita ecco io la vedo così io ogni volta che vado a dormire per me è come incominciare un'avventura ecco un'altra mi vedo l'andare a dormire in questa maniera qua sarò come dico da qualche mio collega sarò matto io ma sì c'è ancora c'è ancora molto pregiudizio ma anch'io dico metto l'equipaggio per andare a letto esatto è qui esatto mi devo dotare sì sì è un percorso che ormai la gente le sa queste cose quindi a seconda del momento quando è il momento giusto quando le persone intraprendono questo cammino poi si rendono conto si rendono conto di quante cose quante intuizioni quante risposte alle domande ci sono anche nella fase ipnagogica del sogno che per me è quella dimmi dimmi ecco no Daniela mi ricollego proprio quello che stai dicendo tu adesso e la cosa ancora più meravigliosa è portare il mondo onirico nel mondo di tutti i giorni come dire a proposito dei test di realtà ma tante altre cose io ad esempio quando vedo una stranezza qualcosa che non quadra mentre magari guido che ne so io faccio subito un test di realtà e in quel momento mi sento molto consapevole ho come una percezione della realtà diversa rispetto a anni anni fa perché mi sembra quasi che sia anche la realtà stessa fatta di sogni perché alla fine abituandoci a vivere e a fare esperienza nel mondo onirico veramente le due cose vanno a pari passo con regole diverse ma vanno a pari passo vanno parallele e alle volte un po' di sogno entra nella vita e alle volte un po' di vita entra nel sogno e questo è lo scambio e anche la bellezza della sorpresa quando per esempio colleghiamo e troviamo delle sincronicità ma questa cosa mi sembra di averla vista nel sogno eccetera e anche un modo diverso di vedere il mondo io dopo un po' l'ho capito perché perché se nel sogno c'è tutta questa sorpresa meraviglia e imprevisto anche nel mondo reale cominciamo a vedere la sorpresa la meraviglia e l'imprevisto non diamo più per scontato tutto quello che vediamo ma siccome abbiamo visto cosa sa fare il sogno magari potrebbe succedere anche qui perché no e poi iniziamo a vedere che effettivamente succede anche anche qui solo che noi è come il chiodo nel muro non l'abbiamo mai visto e quando l'abbiamo visto cerchiamo di vedere se è anche in altri se è anche nella nostra realtà di veglia c'è un messaggio un altro messaggio questi scambi di pensiero sono veramente interessanti e proficui infondono serenità e tranquillità con la certezza che loro ci sono sono tutti vivi ci amano come noi li amiamo solo che dobbiamo percorrere due strade diverse al fine di evolvere nella più pura spiritualità bellissimo bellissimo questo messaggio molto bello grazie mille Daniela Eugenio Eugenio come sono d'accordo quando vado a dormire dico che vado in missione vivo così la mia fase onirica infatti non dico mai ho sognato dico ho visto mi è successo ho fatto bravo non vedo il nome dopo vado a vederlo una medaglia a questo tizio è vero è vero come andiamo a letto noi uguale sì sì esatto bellissimo va bene Eugenio allora io ti ringrazio per la tua disponibilità e ringrazio Anna Enrico Focus 3.0 per l'opportunità e ci vediamo alla prossima puntata della rubrica il mese prossimo grazie mille a tutti per averci ascoltato e vi auguro una buona serata e dei sogni meravigliosi buonanotte a tutti grazie mille Enrico grazie tantissime ciao buonanotte a tutti buonanotte a tutti grazie grazie a tutti